Cosa fai? Ma sei... Ma cos'è questo? Andiamo a farlo da mamma Buonasera a tutti ragazzi Sono in camera di Franci E oggi andremo a fargli un bellissimo scherzo Un bellissimo ragno A un certo punto glielo lancerò Vediamo come reagisce Secondo me raga Inizia a urlare in una maniera assurda Comunque lo scopriremo solo vivendo Adesso chiamerò Franci E lo farò venire qui Cos'è sta roba? E lo farò venire qui Vedremo la sua reazione Adesso lo chiamo Franci Vieni un secondo Franci No vieni tu un secondo Vieni veloce Vieni un secondo Sì? Franci vieni tu Cosa vai? Ma cosa fai? Ma sei... Ma cos'è questo? Ma cosa fai? Ah! Che roba hai Dani? Io secondo me No non vengo lì un secondo Cosa fai? E' cimedi Dani E' vero? No Cosa dici di no? Dai Cosa hai connesso? Mi Vieni qui Vieni qui Vieni qui Togli quella roba Non ce l'ho Dove l'hai messa? No è là Quindi Allora Dai Dio mio ma è enorme Dai Che schifo E' bruttissimo Dio mio Dio mio Ho già veduto anche la tua mamma Devo farlo Dai Franci Dai Che ansia Dio mio Tu ti diverti con queste robe? Sì Ma cosa ridi? Cosa ridi? Inche ride C'è sto filo però Vabbè Comunque che ride Ma andate in quel paese Ragazzi abbiamo deciso di andare a fargli la scherza in casa mamma Lui registrerà Anzi lui gliela lancia il registro Ok Ci ammazzerai Io già lo so Eh? 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 Ah 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 Raga Franci è stato cattivissimo con la sua mamma Ma anche tu No L'hai lanciato qua Franci Allora Questo è solo un ragno Dai Basta Basta Ma basta L'ho provato con Jackie Con Jackie Jackie? Jackie lo mangia? No Dai è bruttissimo Dai è bellissimo No te lo lascio qui Buttalo via No no Perché se vengo a cosa tu vuoi trovo quella roba Sì Salto per aria No dai Franci facciamo un altro scherzetto Basta Ragazzi scrivete qui sotto nei commenti che scherzi farei a Dani che io li leggo subito Perché io voglio la vendetta qua Non è possibile Beh è stato bellissimo il mio scherzo eh Non è possibile È uno dei più belli che io ho fatto Cioè il primo scherzo bellissimo che ho fatto È l'unico scherzo che hai fatto Sì È il più bello però Scrivete Team Danny o Team Fra Danny Team Franci Team Danny o Team Franci Il video per fortuna finisce qua Mi raccomando lasciate un like Iscrivetevi al canale E condividete tutto il video Così vedono la mia reazione e quella di mia mamma Che è scappata Nel mentre Per fortuna ci vediamo in un prossimo video Speriamo più bello di questo qua È bellissimo questo Ciao 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 Ciao